In tutte le isole Ole siamo l'unico frantoio per ora ed è una frantoio aziendale che in funzione è autorizzato. Ho cercato nessuno proprio diciamo così Ulisse che mi venisse ad aiutare. Ci eravamo già conosciuti qualche mese prima e ho visto che si impegnava con amore sulle cose e allora ho cercato di conquistarlo e portarlo qua insomma. Una cosa mia personale è portare avanti questa azienda, portare avanti il nome di tuo amico e poi alla fine è una passione questa. Ma non mi pesa sta cosa completamente, lo faccio con passione, sono soddisfazioni personali. Anche se fai dei lavori faticosi alla fine la sera arriva a casa che sei tranquillo, sei soddisfatto, non ti pesa niente. Io Salvatore è come un padre alla fine quindi è come il figlio che aiuta il padre.